Ehi! Ma che fa? Sì! Ma che fa? Sì! Sì! Paolo, sei in fuorigioco! Qua, Paolo! Eccomi, tu! Sì! Maronna mia! Niente! Mi voglio sparare! Marescia sta fuori! Ancora merda! Non funziona due volte su due, basta! Ma non è funzionato anche la mia volta! Quella è come la tecnica dell'uomo nudo! Funziona una volta sul tre! Che tattica è? Non conosci la tattica del nuovo nudo? No, dell'uofo può essere! Dell'uomo, dell'uomo nudo! Che cos'è l'uomo nudo? Che cos'è l'uomo nudo? Sono quelli che stanno sempre insieme a tu sorella, Marciano! Porco di mutani, porco! Porco di mutani! L'uomo conosce la tattica dell'uomo nudo! No, io conoscerò i vostri sorelli! No! Ah, però è una brutta sorpresa! C'hanno tutte e due il pisello, ciao! Oh no! Senti piacciono le sorprese! Bravo Marciano, gran balla! Complimenti! Di merda! Bravo! Vai, mette! No Ciro! 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 Si però passala! Passala! Premi x a caso! Premi x a caso! Sì, vado! I vado! Goal! Tattà! Tattà! Ma vado a poco! E niente! Ma vado bene l'albitro, ciao! Parlarvi come noi, grandioso! E Ciccio se ne accorge al 75esimo con l'albitro, con noi! E' il 73esimo! Ciccio! Niente! Arisciallo! Arisciallo! Basta Paolo! Mia! Sì! Grandiosi! Grandiosi! Vedi Ciccio facciamo sesso, andiamo! Andiamo a fare sesso col Ciccio! Sì! Tu! Sei un bastardo! Tu va Paolo!